Oggi voglio fare un bel pezzo di carne sulla griglia Prima di tutto vediamo un attimino come dobbiamo scegliere questa carne quella che va fatta, la cottura che va fatta diciamo sulla griglia, sulla piastra, come deve essere? Deve essere così, guardate abbastanza amarezzata, questa è bella amarezzata il grasso deve essere la giusta quantità di grasso, vedete pure esternamente? E guardate il colore, è perfetto, guardate, stupendo! Poi, unguolo in gerbente di olio alla superficie, così abbiamo la crosticina quella che ci piace tanto veramente, guardate Griglia, griglia, in questo caso questa bistecchiera è bella calda Inghisa è perfetta perché tiene bene il calore Guardate E il rumore! Adesso però non è finita qui perché dobbiamo profumare la carne con che cosa? Così Io faccio in questa maniera metto lo spicchietto d'aglio aperto poi così poi che faccio? Guardate che rosmarino questo Deve essere già bella Allora, le cose devono essere già belle in padella prima che lo mettiamo che arrivano nel piatto le cose già devono essere belle perché sono belle e saranno anche buone guardate così guardate così in questa maniera quindi manzo che cosa sta accadendo adesso perché la griglia piano 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 quello che sta accadendo vediamo un po' vedete ancora un altro pochino dobbiamo segnarla bene segnare bene io però vi faccio pure un bel contorno perché la bestecca così è facile che ci vuole niente il contorno qual è? faccio cipollotto fresco che a me piace da morire lo sapete no? quindi pulisco vado così quante volte vi è capitato che il pomodoro che avete in frigo si è rovinato vedete così tolgo questa parte tolgo questa parte e faccio così taglio a metà quindi taglio a metà i pomodori questo è già tagliato a metà i pomodori voglio fare cotti in padella quindi olio vado padella già calda vedete? abbondante pomodoro poggiato in questa maniera così qui sta così poi cipollotto vai così abbasso un po' il fuoco poi aglio schiaccio metto qua poi sale sale bello poi non ho il basilico però c'ho questo qua guardate qua che robetta guardate che fiori che sono ecco qui origano mamma mia che profumo poi coperchio e lasciamo così col calore col valore che sviluppa il pomodoro che si cuoce a bere perché altrimenti diventa fritto non si non si ammorbidisce non si lascia andare vediamo la carne guardate guardate il calore come sale guardate il calore come sale la carne vedete? e adesso io tolgo tutte quelle che sono gli aromi guardate qui ah adesso sì adesso sì adesso sì guardate qui guardate qui vedete i grassi liquidi guardate qui mamma mia che robetta guardate qua questo io questo ci vado matto con questo qua ci vado matto qua qua e niente aspettiamo la cottura sia dei pomodori che della carne tra pochissimo ci vediamo è inutile che vi dico che a me piace cotta al sangue no? media almeno vado così guardate metto qua su metto la carta argentata così perché adesso ve lo dico perché mamma mia questo che è? questo lo diamo dopo chiudiamo perché se io vado a tagliarla adesso la carne esce tutto poi i liquidi della carne quindi così rimane calda rimane calda tutti i liquidi vanno al centro quindi pure se vado a fare una tagliata se vado a fare una tagliata la carne è perfetta quanto tempo ecco perché poi quella domanda quanto tempo due minuti guardate qua non è una poesia questa guardate mamma mia belli perfumati pomodori fatti quindi facciamo così a noi ci piace come un po' piccante guardate che odio mi sono fatto peperoncino seccato a casa ah così mi piace da morire a me ognuno ah alla grande poi vi insegnerò come si fa poi guardate qui mi sta prendendo sto sbavando sto sbavando guarda qua che robetta vedete? bella così coltello vado tac 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 mamma mia chi è? guarda qua guarda che robetta guarda guardate che robetta amici miei guardate che robetta guarda qua che cottura vai media questa è proprio media vai 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 poi vado così cimetti trac tac 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 vado dopo i motoretti che fai? ci rimetti? mamma mia mamma mia tiè guardate qua che piattino da re questo è un piatto da re canto, canto, canto piatto da re e sale quello buono sulla carne che non ci abbiamo messo e ora qualcuno mi dirà ma com'è sta carne? ora te lo dico subito aspetta un secondo un secondino croccante dentro succosa vuoi dire a casa mia a mangiare? alla prossima volta vi invito buon appetito un bacio a tutti quanti vi voglio bene ciao